Kissinger ha scritto il suo primo libro, probabilmente il suo più bello, parlando del congresso di Vienna. Elevando il congresso di Vienna a 1815, le cinque grandi potenze che sconfiggono Napoleone si ritrovano intorno a un tavolo, mettendo dentro anche lo sconfitto anche i francesi, e riorganizzano l'Europa secondo uno schema che durerà un secolo, fino alla prima guerra mondiale. Kissinger è uomo di scarsa fantasia, ma di notevole perseveranza, è convinto che quello sia il paradigma che deve valere anche in questo contesto. La sua idea è che la Russia deve essere recuperata, anche se sconfitta, e entrare in questo ordine.